Grazie a tutti i ragazzi per la squadra e poi giochiamo con il F習el Balano Sport porto Allora, questa è molto buona, questa è un pochino meno, questa invece è la mia ma che la bobbietta, la mia logo, allora, adesso andiamo, attravo, 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 attravo ma i i i i i i i Piesce ma cavallo Oltre pari Piesce ma cavallo ecco qua E' un po' di rinforzamento. ah scusate